La scena italiana ha raccolta il 17 ottobre al Quirinetta Caffè Concerto di Roma con Italiani Brava Gente, una vera e propria festa del Made in Italy musicale di qualità con Appino, O Petroleum, Viva Lion, Dardas e De Shalalas, tutti insieme per una staffetta di musica indipendente e assolutamente godibile. Il tutto per una serata che abiterà il Quirinetta in ogni sala della Palazzina Liberty con alcune delle più interessanti proposte rock e cantoautorali contemporanee che per l'occasione incontreranno le arti visive con una retrospettiva ironica e stilizzata sulla musica italiana affidata alla talentosa matita della giovane illustratrice Lidia Massacesi. Con Italiani Brava Gente si parte alle ore 21 con una staffetta di artisti attentamente selezionati da Rockit e a conclusione ci sarà la rotazione di DJ set Italian Style e Diego De Gregorio per una serata veramente da non perdere al Quirinetta Caffè Concerto di Roma.